Facciamo un bel financial update di settembre, vediamo come sono andati i nostri portafogli didattici nel mese appunto di settembre e come si stanno muovendo. Quindi andiamo subito dal compartimento azionario e poi vediamo il compartimento cripto. Io sto registrando l'8 ottobre, tu vedrai questo video probabilmente domani se riesco a montarlo. Siamo attualmente nell'annuale su Trade Republic a un 4,5%, quindi un 4,50%. Se andiamo a vedere settembre come è stato, tra l'altro abbiamo fatto un picco a un 6%, 5,87-6% circa. Andiamo a vedere il mensile, così vediamo come sta andando. Purtroppo non è proprio semplicissimo riuscire a individuare il mese perfettamente, qua ottobre, 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 ecco qua. Siamo partiti qui, questo è il 2, il 2 settembre, quindi siamo partiti a un più 1,43 dopo la fase di caduta che c'era stata ad agosto. Siamo partiti quindi da questo picco qua e siamo arrivati a chiudere settembre a un più 4%, quindi siamo passati da un 1,23 a un 4%, quindi in questo range, giusto per intenderci, questo è settembre, abbiamo fatto complessivamente un più 3%. Non ho venduto nulla, che cosa ci ha spinto su così in alto i titoli cinesi? Infatti se andiamo a vedere nel portafoglio, eccolo qua, ricordo ho attualmente su questo portafoglio un 83% in azioni singole, un 16% in ETF. Se andiamo a vedere il lato ETF che cosa ha performato meglio, allora dall'acquisto, dall'acquisto, dall'acquisto ci ha performato meglio il FUZI Emerging Markets con un più 4,44%, così come poi l'Emerging Markets iShares 4,26%, Physical Gold un 3,89%, l'SP500 in distribuzione a un 3,75%, Global Water, Core SP e così via. Quindi questi sono un pochino i vari ETF. È andato molto bene l'Emerging Markets perché è esposto sulla Cina. Infatti anche in ambito azionario, se vediamo le azioni che sono andate meglio, vediamo JD.com che attualmente ha un più 37%, JD.com l'ho acquistata tipo a un meno 20%, una roba del genere, quindi ha fatto un pump enorme. Alibaba, idem. Poi abbiamo Paypal, Tesla, Expedia, Walmart, Pfizer, Salesforce, Meta, Starbucks e così via. Abbiamo praticamente, abbiamo anche Baidu a 8 eventi, quindi anche lui ha recuperato bene. Invece azioni in perdita abbiamo Coinbase, Eli Financial, Adobe, Walt Disney, Occidental Petroleum, Applied Material, Alphabet, Warrior Metcall, Clatencore e Global Payment, Microsoft, Bank of America e questi qua. Comunque, grosso modo diciamo il portafoglio, non ci possiamo lamentare, sta andando bene. Ah, ovviamente ti lascio qua sotto il link di tutte le piattaforme che ti mostro adesso, di tutti i portafogli didattici. Questo l'ho fatto qui su Trade Republic perché mi permette di acquistare azioni singole, ricevere dividendi, possedere effettivamente le azioni così come gli ETF e contemporaneamente ho anche la liquidità che mi genera interessi. Andiamo a vedere a questo punto anche la seconda piattaforma che utilizzo che è Bitpanda. Qui su Bitpanda abbiamo un secondo portafoglio didattico, ha fatto, vediamo subito, attualmente ci sono 368 dollari, ha fatto un picco come vediamo dall'8 di settembre, che eravamo a 351, fino a 376, quindi un bel picco, una buona crescita, poi ha ritracciato e attualmente siamo intorno al 368, quindi siamo più o meno negli ultimi 30 giorni, quindi dall'8 settembre all'8 di agosto siamo intorno a un 4,64%, quindi anche questo molto buono. Vediamo però le categorie, perché ho anche messo liquidità su Bitpanda, perché tendo a utilizzare più broker. Anche in questo caso ti lascio il link ovviamente in descrizione. Bitpanda lo preferisco prevalentemente per l'acquisto di metalli, perché li possiedo, sono stoccati in Svizzera, ma li possiedo, sono nominali. Nel caso quindi di fallimento di Bitpanda, semplicemente mi verrebbe trasferita la proprietà di questi metalli, quindi mi permette di acquistare oro e argento, platino e palladio in modo relativamente semplice e soprattutto poco costoso rispetto all'acquisto fisico. Chi mi segue da un po' sul canale sa che compro anche oro e argento fisico, quindi in questo caso posso comprarlo in frazioni, frazioni a partire da qualche euro, ma tipo 1-2 euro, una roba del genere, e pagare veramente pochissimo di commissioni. Quindi questo è l'ideale per chi vuole esporsi magari con un portafoglio più piccolo. Ricordo che questi portafogli didattici sono nati volutamente con cifre piccole in modo da immedesimarmi in chi ha un portafoglio relativamente piccolo e vedere come costruirlo negli anni può effettivamente portare dei buoni vantaggi, dei buoni profitti. Io voglio portare avanti questa serie per almeno 5 anni, 6 anni, 10 anni se campo, in modo che abbiamo uno storico e vediamo effettivamente come un po' per volta questi portafogli evolvono. Su Trade Republic sto facendo un piano d'accumulo di 100 euro, 120 euro mensili, quindi pochissima roba. Qui invece non ho fatto un piano d'accumulo, ho fatto un acquisto singolo. Andrò poi pian piano ad integrare un po' per volta, magari una volta al mese con un ulteriore acquisto. Un grande vantaggio di Bitpanda è che tu puoi acquistare tutto e seguire tutto da un'unica piattaforma. Non prediligo Bitpanda per le azioni, preferisco farlo su Trade Republic perché qua su Bitpanda si tratta di CFD, quindi di contratti derivati. Di fatto noi non possediamo azioni, non riceviamo dividendi. Di conseguenza faccio questo gioco di là su Trade Republic. Qua però sono andato a inserire tre ETF in modo da creare effettivamente un portafoglio completo. Ho fatto un video tra l'altro a riguardo, lo lascio pinnato qua sopra e anche qua sotto nei commenti, dove ho creato un portafoglio completo. Quindi l'esperimento qua su Bitpanda è nato con creiamo un portafoglio completo a partire da qualche spiccio. Ed effettivamente l'abbiamo creato. Abbiamo dentro ETF, abbiamo dentro un cripto indice, questo è una delle cose di Bitpanda insieme ai metalli che mi piace un sacco. Abbiamo le materie prime, abbiamo una parte in liquidità che anche essa genera degli interessi, importantissimo. Qui ci sono degli avanzi di cripto che avevo nell'account, quindi non contarli, ma queste sono le categorie che sono andato a pescare. Come stanno andando in particolare? Allora, ETF abbiamo Emerging Markets, di nuovo, che da quando abbiamo comprato è a un più 4,55%. Top 500 US, quindi SP500 per intenderci, più 0,96%. Developed World Stocks, questo qui è un ETF World, banalmente, più 0,37%. Questo è quello che sta attirando, visto l'iniezione, il bazucano economico finanziario cinese. Poi abbiamo le materie prime, il cacao in calo di un 7,31% dall'inizio, il petrolio in positivo di un 2,72%, settore energetico 4,58%, agricoltura un 5%. Abbiamo poi, 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 poi i metalli, ovviamente argento e oro siamo a un più 26,45% sul silver e un 5% sull'oro in profitto. E abbiamo, poi, i nostri criptoindici. Ecco, questo è il criptoindice interessante per chi vuole esporsi al mercato. Personalmente io avrei preso solo Bitcoin. Però, visto che c'è questa possibilità qui, che è una possibilità relativamente comoda per chi è le prime armi, per esporsi sul mercato cripto, ci sono questi indici, allora li ho presi perché possono essere sicuramente molto utili. Come funzionano? Sostanzialmente ci permettono, nel caso, ad esempio, di questo qua, del BCI 10, che penso sia quello più performante, basandomi sullo storico, che cosa fa? Va semplicemente ad allocare il capitale che noi diamo, esempio qua ho messo 60 dollari, viene allocato in automatico sulle top 10 per capitalizzazione. Quindi Bitcoin, Ethereum, BNB e così via. 30% Bitcoin, 30% ETH, poi c'è BNB, Solana e via via fino a Sui. Ecco, in questo caso c'era un'altra valuta qui, adesso non ricordo cosa ci fosse. Perché ogni 30 giorni fa un autoribilanciamento e va a togliere dalla lista le valute che sono uscite dalla lista, le va a rimpiazzare con quelle che sono entrate. Tendenzialmente in uno storico di 5 anni vediamo che ha performato veramente molto bene. Quindi l'ho scelto perché su uno storico di 5 anni, che è quello che poi noi ci stiamo prefissando per questo tipo di portafoglio, dovrebbe aver performato bene. Quindi vedremo come andrà. Attualmente siamo, come siamo messi qua? Non lo so. Mostra transazioni correlate. Allora, noi abbiamo comprato ben 59 dollari e 32. Abbiamo fatto, eccolo qua, un riequilibrio. Ci dice, ha comprato Sui, ha venduto DOT, ha venduto BTC, ha riacquistato ETH. Quindi vedi, ogni mese fa il suo riequilibrio, molto molto comodo. E abbiamo detto, abbiamo comprato 59 dollari e 32 e attualmente abbiamo in portafoglio 60 dollari. Quindi c'è stato un minimo gain, anche se non so il perché non mi venga indicato qua, perché io qua lo vedo, ritorno nelle 24 ore. Se io faccio così non cambierò. Mi dice le ultime 24 ore come stanno andando. Non mi fa vedere purtroppo l'andamento complessivo. Sarebbe un po' più comodo almeno avere un'idea dell'andamento del portafoglio in generale. Compartimento azionario, direi finito, anche se abbiamo mostrato qualcosa di cripto. Comunque i due portafogli azionari, Trader Public e Bitpanda, li abbiamo visti. Sto cercando di portarli su foglio di calcolo, in modo da avere poi tutto ben visivo, carino, fatto bene. E poi chiaramente ve lo giro, così potete tenere traccia di questi portafogli in tempo reale. Man mano che mi muovo, comprovendo, compare poi tutto qua. Per ora sono riuscito a collegare questi due portafogli qui su Yahoo Finance, che mi dà un prospetto relativamente buono. C'è da dire che per ora l'unico che ho collegato veramente è il portafoglio di Bitpanda. Sono riuscito a mettere tutto e quindi qua sta tracciando. Vedi siamo partiti con 352 dollari. Ad oggi siamo a 369, quindi più o meno è giusto, con un guadagno non realizzato, perché non ho ancora venduto nulla, di un 4,76%. Quindi questo è il portafoglio di Bitpanda. Il portafoglio di Trader Public ho iniziato a riportare transazioni, però ancora devo finire. Quindi qua mi segna un 2,64, ma non è assolutamente reale, qua ho di più. Una cosa interessante è che qua posso anche andare a inserire le liquidità e quindi tutti gli interessi che generiamo sulla liquidità, i dividendi, mi fa tutto il calcolo in automatico, quindi è molto molto comodo. E soprattutto se andiamo giù mi va anche a dire i vari dividendi, l'assegnazione degli attivi, quindi come è distribuito tutto, le assegnazioni per settore, quindi tecnologia, consumo, financial e così via. Quindi veramente molto comodo. Sto cercando quindi di integrare qua sopra tutto e poi se io vado a cliccare per esempio nel portafoglio didattico Trader Public dovrei riuscire a estrapolare tutta questa tabella qui con tutto ciò che ho in holding e trasportarlo, e questo è quello che sto cercando di fare, sul foglio di calcolo Excel. In questo modo posso darti quello e puoi tenere traccia di tutto quello che succede, perché purtroppo qui se io condividessi il portafoglio si potrebbe solo vedere che cosa c'è dentro ma non il bilancio, non come sta andando, non come sta performando. Questa è una pecca, non ho idea di come si faccia, anzi se tu sai come si fa scrivimelo qua sotto. Quindi questo è quello a cui sto lavorando. La grossa difficoltà che sto trovando qua sopra è quella di inserire il portafoglio didattico di Pionex, perché ora abbiamo circa 3500 euro distribuito tra Bitpanda e Trader Public, ma ci sono altri 5000 su Pionex. E questo è quello che sto cercando di fare, non è per niente facile, perché? Perché su Pionex sono tutti in bot, quindi sì ho una distribuzione, se io vado a vedere il primary account, ecco qua vedo che c'è una distribuzione, mi dice c'è un 48% in WSDT, 28% BTC, 16% di Pax Gold e poi il resto distribuito tra le altre valute. Però in realtà sono dentro bot, è quasi tutto dentro bot e allora è un po' un casino. Comunque vediamo un overview anche di Pionex, quindi il lato cripto come sta andando. Questo è il 30 giorni, parte dall'8, ok parte dall'8 di settembre all'8 di adesso, di ottobre. Vediamo il ritorno nei 30 giorni è di 307 dollari, quindi un 6%. Quindi il compartimento cripto ha fatto un 6% attualmente, il compartimento azionario è più o meno complessivamente intorno a un 4%. Quindi ce la stiamo cavando, il portafoglio sta spingendo bene, quindi siamo contenti. Devo dire che settembre è stato poi un mese particolarmente interessante. Andiamo a vedere a questo punto come siamo piazzati, quindi i vari trading bot order. Anzi partiamo dalla liquidità, abbiamo una parte di liquidità, cioè su quei 5200 mi pare totali, sono un migliaio di dollari attualmente in compound con interessi sul bot arbitraggio. 623 sono qui che attualmente ci dà un 14,79%, 322 sono su questo stable con un 3,46%, 100 sul 7,14% e 20 sul 3,79%. Io ho messo un po' su tutti perché queste percentuali cambiano tantissimo, variano tantissimo. Tendenzialmente questo qua è quello che performa meglio, però non è detto, quindi io ho distribuito la liquidità ed è lì che genera degli interessi. Visto questo andiamo a vedere anche i bot opzionari. Eccoli qua, un bot opzionario su Bitcoin che è attualmente con un APY del 24,74%. Farò un video dedicato in cui spiego bene come funzionano questi bot, spero già la prossima settimana di riuscire a farlo uscire. Sostanzialmente che cosa succede? Si dà un target, esattamente come funziona sulle azioni, e si gioca su un arbitraggio tra opzioni call e opzioni put. Dove io vado a dire, vado a settare un prezzo, esempio in questo caso la 67k, Bitcoin 67k, mi faccio un call e un put in quell'area, lo fa in automatico lui, io te lo spiego così ma lo fa poi in automatico lui, e io vado a comprare in quell'area e vendere in quell'area. Cioè quando il prezzo raggiunge il 67 io compro e vendo. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che metto una quota e su quella quota che vada in una direzione o nell'altra io guadagno. Nel caso in cui Bitcoin vada come prezzo sopra quella quota lì, quindi sopra il 67, io continuo a guadagnare giornalmente degli interessi in dollari. Viceversa se si muove sotto quella cifra io continuo a guadagnare degli interessi ma in Bitcoin. Di conseguenza accumulo Bitcoin o accumulo USDT a seconda di come mi muovo e questo è ottimo perché ci dà degli interessi relativamente buoni. In questo caso con questo bot siamo a un 24,74% di APY stimato, abbiamo già fatto un profitto d'arbitraggio del 6,10%, abbiamo un holding in perdita del 7,40% ecco perché siamo in perdita su questo bot. Perché un holding in perdita? Perché io sto anche accumulando Bitcoin. Come vedi essendo sotto la cifra di 67k qui lui mi sta accumulando Bitcoin giornalmente. Accumulare Bitcoin mi va pian piano, man mano che rimane sotto, ad abbassare il costo medio di accumulo. E' come se fosse un piano d'accumulo, molto molto alla lontana per avere un'idea, quando il prezzo mi va a break even, quindi mi supera questa cifra lì, verosimilmente mi torna sui 67k, allora io sono in profitto e questo profitto va a sommarsi qua ed inizio ad accumulare in USDT. Altro bot identico, eccolo qui, però in questo caso avevo messo una cifra più bassa. Quindi avevo messo 55k per Bitcoin. Lui attualmente mi sta dando un APY del 16% annualizzato. Mi accumula in questo caso, come vedi qua, interessi in USDT perché siamo sopra la famosa cifra di 55k. E fino adesso mi ha accumulato 5,40$ su 100, quindi un 5,47%. E' attivo dal 24 giugno e questo qua dal 13 luglio. Quindi relativamente poco come tempo ci sta. Non è chissà che cosa, ma te l'ho mostrato apposta perché è verosimilmente come avere liquidità a ottenere interessi. Arriviamo a questo punto ai bot più speculativi. Allora ho fatto partire da 18 ore, visto che Bitcoin lo vedevo un pochino debole, un reverse grid. Il reverse grid che cos'è? È un bot sostanzialmente simile al classico grid spot, quindi dove tu compri basso e vendi alto, ma è reverso. Quindi vende alto e compra basso, cioè va al contrario. Mentre tu quando vai a creare un grid spot normale, lui che cosa fa? Ti compra Bitcoin e poi man mano che sale il prezzo va a venderlo. Con il reverse grid nel momento in cui tu lo fai partire ti vende Bitcoin e poi man mano che il prezzo scende lo ricompra. Quindi il reverse grid funziona bene in una situazione di calo del mercato, viceversa lo spot grid tradizionale in una situazione laterale o di uptrend. Meglio laterale comunque tendenzialmente, a meno che non si fa un infinity grid, quindi delle griglie molto ampie. Però lì è un altro paio di maniche. Quindi in questo caso l'ho attivato e attualmente mi dà un annualizzato del 736%, ovviamente non sarà così, perché è partito a razzo e mi ha fatto già delle operazioni, mi ha chiuso, attualmente siamo un 1,57%, mi ha chiuso 28 operazioni, che possiamo anche vedere, tanto quando sono 25 minuti di video ci sta. Eccole qua, vedi qua mi è andato a comprare e vendere, comprare e vendere, ti va poi a fare questo tipo di operazione. Quindi qua per esempio, lo tiro su così si vede meglio, qua mi ha fatto un sell, quindi ha venduto l'8, quindi o stanotte alle 3.35 e ha ricomprato alle 7.52. Ha venduto a 62.582 e ha ricomprato a 62.395. Quindi prima lui ti vende e poi se il prezzo scende ti va a ricomprare. Man mano che il prezzo sale lui continua a vendere, 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 finché non ti vende tutti i vari bitcoin. Poi oscillando a ribasso va a ricomprare. Quindi molto molto comodo in queste fasi dove il mercato è laterale tendenzialmente o si teme che possa scendere. Questo è un bot che penso terrò a lungo con l'obiettivo di andare ad accumulare ovviamente dei bitcoin. Soprattutto se il prossimo anno sarà recessivo, se bitcoin tenderà a scendere, magari farà un bel ritracciamento, questo potrebbe essere un bot estremamente potente. Poi poi poi, futures grid, qui ho fatto la cartella, abbiamo il bot che ancora non ho sospeso, classica grid, neutrale, leva 10 per, ci ho messo 30 dollari, quindi lo sto trattando come una posizione a sé. Io quando uso questi tipi di bot li utilizzo come se fossero dei long e short che vado ad aprire, quindi con un capitale consuo, non vado a caricare tutto il capitale sopra. Dedico il capitale di una posizione, come se stessi aprendo un semplice long o short sul mercato. Attualmente mi ha già generato un 12% nel giro di 18 giorni, quindi sta andando molto bene, infatti l'annualizzato è un 263%. Ha attualmente un non realizzato di 0,35, il range che gli ho dato erano 52,5 e 67k più o meno, 46 griglie. Liquidazione ce l'ho a 46k a ribasso, 88k a rialzo, è partito quando il prezzo era 62,6 e attualmente ha fatto 131 round, 10 nell'ultimo giorno, quindi oggi. Volevo chiuderlo, però visto che Bitcoin è ancora debole, per ora lo sto tenendo aperto, aspetto che Bitcoin prenda una direzione, quando ha iniziato a prendere una direzione lo chiudo, incassiamo il profitto perché ricordo questo è un bot di breve termine. Tra l'altro tutti questi bot che mostro, qua sotto nella descrizione ti lascio il link per copiarli, quindi puoi anche copiarli su Pynex, basta fare un account, è gratuito, cliccare copia e in automatico ti copia i settaggi, ti copia il bot. Abbiamo poi questo bot qui che ha fatto oggi un 8 round e un inverso, bot inverso 3x long, ci sono penso 50, no 20 dollari, quindi ho messo proprio pochissimo. Un bot che va a scommettere sul calo del prezzo di Bitcoin, quindi inutile dirlo, è un bot short term, che lavora sulla situazione attuale di mercato che è un po' incerta e può essere utilizzato come bot di copertura, infatti lo sto usando come bot di copertura. Questo invece è un bot che fa veramente cagare, ci ho messo 60 dollari, attualmente fa cagare semplicemente perché Ethereum sta performando peggio di Bitcoin, quindi il profitto mi ha fatto sì un 4% ma è sotto del 77%, perché? Perché Bitcoin sta performando meglio di ETH, questo lavora sul cambio ETH contro Bitcoin, quindi finché non si parte con la benedetta al season, ETH inizia a performare secco su Bitcoin, questo bot fa schifo. Però c'è da dire una cosa, che attualmente in accumulo, questo bot mi produce un ritorno in Bitcoin, quindi io sto utilizzando questo bot per accumulare Bitcoin, quindi i Bitcoin che vado ad accumulare pian piano ce li ho lì perché sto facendo profitti ed è sicuramente ottimo nel momento in cui iniziasse a spingere perché il prezzo di Ethereum inizia a salire veramente secco, allora qua inizia a produrmi Bitcoin e io sono contentissimo. Quindi questi erano quelli short term, abbiamo poi i classici bot avviato, questo qua è un classico bot martingala, in realtà non martingala perché non vado a scalare come parametri ho messo ogni 1000 dollari di calo del prezzo, compra un'unità, 10 ordini massimo, take profit dell'1%, quindi lui scende, ogni volta scende di un 1000 dollari, quindi un k, un k, un k, ogni un k mi va a comprare un'unità, 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 quando il prezzo medio, ipotizziamo sia qua, sale del più 1%, chiude la posizione, vende e incassiamo il profitto. Questo qui attualmente ha un 1,56%, poi ne ho fatto un altro identico ma con un volume scalare perché sto testando a vedere i due come si comportano, questo qui funzionerà sicuramente molto molto meglio in situazioni di bear market, di downtrend, quindi farà come si può anche vedere qui, questo è un'IPR attualmente del 38,82%, questo dell'8%, questo mi ha fatto un 1,56%, questo mi ha fatto uno 0,35%, la quantità di investito è la medesima, però la differenza è che questo qui come puoi vedere ha un prezzo medio d'acquisto più basso, siamo a 63,006 contro 63,008, li ho avviati praticamente insieme, cioè a distanza di un minuto come puoi vedere qua. Qual è la differenza? Che questo qua comprando scalare va a comprarmi più unità quando il prezzo è più basso, quindi vado a espormi maggiormente mediando il prezzo a ribasso, quindi in una situazione laterale questo performa da Dio e quindi fa soldi più veloci. Questo qua invece è una situazione di bear market, quindi quando il mercato va giù performerà estremamente meglio, comprerà quando i prezzi sono più bassi e di conseguenza quando poi torna su sarà più potente. Poi comunque sono speculativi perché hanno un 1% di take profit, quindi molto stretto. Ne ho anche uno attivo invece da un bel po' di giorni, eccolo qua, questo qui invece ce l'ho quasi da un anno attivo, questo qui anche come vediamo è uguale, solo che gli ho dato 2k, quindi ogni 2k va a comprare, il volume di scalo è 1.5, quindi nuovo ottimo per il bear market, ma un take profit del 5%, infatti questo qui siamo attualmente a un 8%, ci ha fatto veramente bene, perché siamo passati a quella fase di, tra virgolette, bear market, prima di tutto il pump che abbiamo visto su bitcoin. Poi 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 abbiamo il classico bot grid, qua ci ho buttato 80 dollari sopra e ho messo come parametri, te li vado a mostrare, eccolo qua, un lower limit 45k, quindi la griglia più bassa 45k, la griglia più alta 71,9k, quindi quasi 72k, ci ho messo 140 griglie, quindi man mano che il prezzo si muove mi va a chiudere, comprare, vendere e fare i vari profitti. Tendenzialmente ogni griglia mi genera tra uno 0,16 e uno 0,33%. Ho in questo caso attivato anche il reinvest profits, quindi sto facendo il composto, anche di questo ti lascio ovviamente il copy, quindi puoi copiarlo e ti copia in automatico tutti questi setting, così ce li hai anche tu. Oltre al reinvestimento automatico ho anche messo il trailing, quindi seguirà a rialzo il mercato questa griglia. Se bitcoin sale di un tot questa griglia si sposterà, arriverà a 73, 75, quindi aumenta magari i 5k di qua e aumenta i 5k di qua. Quindi è una griglia che tende a seguire a rialzo il mercato, non a ribasso, quindi bisogna tenere un attimo d'occhio perché sul breve termine ci sta, ma sul lungo termine da guardare. Poi 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 abbiamo il nostro classico TWOP che sto lasciando attivo, cioè il piano d'accumulo. Abbiamo poi il rebalance, questo qui mi gestisce in automatico il portafoglio. Ho un rebalance sulle altcoin, attualmente in profitto di uno 0,11%, quindi molto molto tenue, divisi per categorie. Quindi ci ho messo qua 2, 3, 4 categorie. Queste qua sono le top per capitalizzazioni, Cardano, ETH, AVAX, Solana, BNB. Poi ho queste qua con Aevo, Injective, Ena, Jupiter, Ton, Sui, ICP, Caspa. Poi ho Arkham, GRT, Theta, Tau, Nier e poi MKR, VET, Ondo e Pendle. Quindi questi sono un bot speculativo, gli ho dato delle percentuali. Ci sono giustamente chiaramente anche gli WESDT, quindi nella percentuale se io ti vado a mostrare, ecco qua, c'è una quota in WESDT e una quota distribuita in coin, in modo che mi utilizzi questi WESDT come mediano. E la funzionalità che voglio dare a questo bot è quella di gestirmi il portafoglio, quindi gli ho detto guarda il mio portafoglio un 40 deve rimanere in WESDT, un 40%. E poi il resto distribuito sulle varie coin. Quando queste coin performano va a venderle in automatico, gli ho dato un ribilanciamento dell'1%, quindi quando c'è una performance del più 1% rispetto all'equity del portafoglio, attenzione non la coin, cioè non è che ETH sale dell'1%, no, la posizione di ETH nel mio portafoglio sale dell'1%. Allora se sale dell'1% vai a vendere e mi compri quelle che sono scese, in modo da tenere sempre più o meno questo bilancio qua. E lo stesso vale per tutte le altre. O poi il rebalance essential, lui sta spingendo, questo è il rebalance che a me interessa, poi in realtà quello di prima era un rebalance speculativo, siamo in profitto di un 16% più o meno, 16,43, o dentro, come puoi vedere qui, uno con bitcoin e oro, rispettivamente più o meno un dovrebbe essere come parametri, eccolo qua, 63% oro, 37% bitcoin, e le dinamiche sono le medesime che abbiamo detto prima, e poi il rebalance bot con bitcoin, oro e dollaro. Questo, come vediamo, è leggermente in questo momento meno performante, perché mettiamo un 16,23 contro un 16,79, meno performante semplicemente perché c'è anche una quota in dollari, che quindi mi mantiene un po' abbassato il bilancio. Esattamente, giusto per avere un'idea, 37% dollari, 32% pax gold e 31% btc. Questa è la configurazione che abbiamo su questo portafoglio qui. In questo momento, dove ci sono loro bitcoin che corrono, questo portafoglio è un po' più penalizzato rispetto a quest'altro, però mi parcheggia, mi va a fare i take profit, mi va a prendere USDT, di conseguenza in situazioni di calo, questo portafoglio tende a performare meglio. Come vedi, è un po' un casino riuscire a riportare di là, però in un modo o nell'altro, mi cervello riesco, riuscirò a riportare tutto bene, così si ha un'idea. I bot che ho costruito, come vedi, sono bot che tendono un po' a compensarsi l'un l'altro, quindi ho cercato di creare delle situazioni, delle sinergie tra bot, mantenendo un principio cardine all'interno di tutto il portafoglio, che è, uno, accumulare bitcoin quando i prezzi sono decenti, due, speculare sul prezzo di bitcoin, nel frattempo approfittando delle fasi laterali per aumentare liquidità con la quale genero interessi da un lato e riaccumulo bitcoin poi a livelli più bassi, quindi ho settato un portafoglio che vada bene tendenzialmente in una direzione long term, in situazione di bull, in situazione di bear, in situazione laterale e che tramite i bot futures sullo short term mi permetta di muovermi e ottenere dei profitti. Tutto questo insieme per far che cosa? Per cercare di aumentare ovviamente la liquidità del portafoglio. Ricordo, questo portafoglio su Pionex con questi bot sono speculativi, è vero che ci sono bot long term, è vero che ci sono bot short term, però di fatto comunque c'è della speculazione in gioco, ci stiamo muovendo in modo speculativo e di conseguenza bisogna chiaramente metterci un po' di occhio. Però io ti riporto tutto qua, ti mostro tutto qua, ti mostro tutto anche nel gruppo Telegram, se ancora non ci sei qua sotto ti lascio il link, mensilmente faccio questo tipo di aggiornamento con tutta la panoramica dei portafogli didattici che abbiamo mostrato. Quindi quelli lato cripto e quelli invece lato azionario, ETF e metalli. Qualsiasi domanda scrivi la qua sotto, ti ricordo qua sotto ti lascio il link di Trade Republic, il link di Bitpanda, il link di Pionex e per Pionex anche i settaggi di tutti i vari bot. Ti basta cliccare il link, ti apri in automatico la pagina, se sei già registrato su Pionex in automatico ti apri la pagina, se non sei registrato registrati, clicchi il link e poi ti mostrerà il settaggio in automatico, te lo copia e tu dovrai solo dirgli ok, scegliere quanto capitale mettere e partire. Iscriviti al canale mi raccomando se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato in tempo reale sull'andamento dei mercati, così rimarrai sempre sul pezzo, anzi sempre sul prezzo. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.